Buongiorno, buongiorno. Il libro è col punto interrogativo perché vuole dimostrare come ho cercato di fare in questi anni che con la cultura si fa economia e investire in Italia in cultura è uno dei motori principali della crescita economica del paese, quello che abbiamo fatto e che dovremmo fare con molta esistenza nel futuro. Insomma c'era vita al Collegio Romano a qualche modo e questo libro raccoglie un po' tutta... Ciao, come sei? Io non so te. Sì, mi accetta, sicuramente la buona te. Ciao. I più presenti, gli giusti archeologi, il professor Carandini, Carafa, le fonti storiche ci dicono che l'abbia detta...